Buongiorno a tutti, sono sempre il Trason Totto Allora ragazzi, prima di tutto vi ricordo che oggi è il compleanno di Mario quindi trovate su Pampling un paio di magliette a 10 euro l'una quindi potete prendere anche una sola per le prossime ore quindi entro 24 ore poi scade l'offerta se volete acquistare potete aggiungere un paio di calze vostra scelta al carrello o alla bag se preferite se usate il codice VILASLO le calze non le pagate poi stessa cosa se volete utilizzare la promozione 4x40 permettete di avere 4 magliette a 40 euro se aggiungete le calze non le pagate usando il codice ma non pagate neanche le spese di spedizione Allora però bando alle ciance perché è appena uscito il primo trailer della serie Hawkeye ovvero Occhio di Falco sono molto curioso, chissà se ci sarà Kingpin come si dice già nel trailer secondo me no perché se veramente c'è il Kingpin di Donofrio per via della presenza di Eko come si vocifera ormai da settimane lo mostreranno nella serie però non si sa mai vediamo perché sono molto curioso ebbè eccolo qua eccolo qua finalmente lui comunque è sempre figo c'è sempre problemi di famiglia quest'uomo comunque si può dire una maledizione vediamo un po' come beh che bello però l'atmosfera natalizia con la canzone che bishop mi ispira molto eh sì che bishop mi ispira tantissimo uh ok fanno team up bella come cosa figo bene molto bene e lei è ancora un po' impacciata molto scherzoso e giocoso come tono il balletto con Capitano America tipo Avengers The Musical lei è perfetta con il costume ok beh 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 insomma allora tralasciando il fatto che ho la voce ai minimi storici perché sono stato al garda con l'ho usata tante quindi adesso ho le corde vocali spezzate devo dire che questo trailer non mi dispiace affatto nel senso che non sapevo cosa aspettarmi da questa serie non sapevo neanche che tipo di tono avrebbe avuto perché comunque occhio di Falco è un personaggio che di solito è anche abbastanza serio è anche uno di quelli con il background drammatico della famiglia e prima rischiano a vederli più e poi svanisce per via lo schiacco di Thanos adesso che finalmente riesce a stare con loro c'è qualcosa che lo porta via da questo piacere che rincorreva ormai da tanto tempo è una serie da quello che vedo che mi sembra palesemente pensata per trasferire il ruolo di occhio di Falco da Jeremy Renner a Kate Bishop che è interpretata da Ailey Stanfield attrice che sinceramente aspettava la sua grande big occasion la grande occasione da parecchio tempo perché lei comunque ha iniziato con il grinta di Cohen poi l'abbiamo vista in altri prodotti ma non ha mai avuto quel ruolo che la elevasse e diciamo che lavorare giovane come è con il Marvel Studios sicuramente le darà una spinta di carriera e infatti credo che il titolo Okai occhio di Falco sia ambivalente perché da una parte abbiamo Jeremy Renner ma penso che poi alla fine di questa serie occhio di Falco sarà lei quindi in realtà vedo più lei come protagonista rispetto a Jeremy Renner devo essere sincero quindi mi va benissimo perché è una cosa che già sapevamo probabilmente comparirà avevano detto che sarebbe comparsa anche Florence Pugh nei panni di Elena Belova in questa serie quindi l'aspetto ci sarà Echo si diceva per appunto che ci sarebbe stato Kingpin ma io onestamente non lo so dicono che tornerà il Kingpin di Nonofrio ma che non dovrebbe essere un Kingpin con il background della serie Daredevil cioè è sempre lo stesso attore ma è un nuovo Kingpin ispirato a quello da quello che si sa perché teoricamente quelle serie sono decanonizzate il che potrebbe anche far sì che venga confermato il rumor secondo cui ci sarebbe Matt Marduk interpretato da Charlie Cox in Spider-Man No Way Home ma questo è ancora tutto un mistero quello che è certo è che ho visto un trailer molto allegro molto action ma anche scansonato ci sono tante battute c'è lei che viene allenata all'occhio di Falco quindi è un po' impacciata sfonda la vetrata con le mosse da ninja ma poi crolla per terra perché ovviamente è una ragazzina e non sa ancora bene come muoversi interessante che sia una ragazzina con però tanta determinazione e nessun potere da quello che vediamo esattamente come occhio di Falco quindi l'erede perfetta da capire un po' quale sarà il suo background nella serie perché nei fumetti uno può anche andare a sfogliarsi a leggerli ma non è sicuramente la stessa cosa perché comunque nei film sapete che cambiano molti aspetti dei personaggi quindi voglio sapere che tipo di caratterizzazione le hanno conferito mi piacciono molto loro due quando combattono assieme voglio vedere anche quale sarà il tipo di rapporto perché da quello che noto nel trailer vediamo che potrebbe esserci il rapporto tra occhio di Falco e la figlia e il rapporto tra occhio di Falco e Kate Bishop quindi due rapporti padre figlio uno con la figlia biologica e uno con questa figlia spirituale che evidentemente non si capisce ancora dal trailer se in maniera consapevole o no sta allenando per diventare la nuova occhio di Falco sta di fatto che questo secondo me è un altro passo per gli Young Avengers gli Young Avengers li stanno costruendo pian piano anche se ancora non c'è nessuna comunicazione ufficiale sul progetto però abbiamo Kate Bishop Florence Pugh come Florence Pugh però no Florence Pugh è più per i forse Thunderbolts non si è ancora capito perché alla fine Black Widow vediamo la scena post-credit però abbiamo i figli di Wanda che sono Speed e Wiccan che già hanno detto verranno recuperati in forma più cresciuta in Doctor Strange in Multiverse of Madness e poi c'è il nipote di Isaiah che dovrebbe diventare teoricamente Petriot se non sbaglio quindi francamente credo che stiano costruendo lentamente questi Young Avengers a partire dalle serie poi c'è anche Miss Marvel che avrà comunque un ruolo di rilievo in The Marvels che sarà il film su Miss Marvel e Captain Marvel per cui sicuramente ci sono tante cose che bollono in pentola da questo punto di vista sono piuttosto convinto che stiano creando qualcosa di nuovo per un pubblico abbastanza giovane però senza smettere di strizzare l'occhio al pubblico un pochino più adulto perché io ad esempio è vero che ho capito che questa serie serve a preparare la nuova Occhio di Falco me la guardo molto volentieri uscirà il 24 novembre peraltro bellissimo che lo fanno uscire proprio nel periodo pre-natalizio ed ambientata natale anche questo fatto che si insiste molto su atmosfera natalizia tanto che c'è la canzone di Natale che fa da eco in tutto il trailer è interessante quindi sarà una storia natalizia su Occhio di Falco e Kate Bishop per cui si entra già nel mood Disney da questo punto di vista è esperta a cercare di acchittare tutto secondo i gusti del pubblico siamo a fine novembre inizia dicembre e tu per tutto novembre per tutto dicembre sarai accompagnato da Occhio di Falco con l'atmosfera natalizia che di puntata in puntata è ancora più sensata perché anche tu spettatore stai entrando nel periodo natalizio sono quelle strategie di marketing che secondo me funzionano quindi sono estremamente curioso voglio vedere che cosa abbiano pensato perché a mio modesto parere potrebbe esserci di che discutere di questa serie tra quelle che sono uscite finora è quella che mi sembra la più particolare se vogliamo perché è basato su un personaggio che si è amato ma non è amato quanto magari altri che abbiamo visto nelle serie precedenti e magari è uno su quelli è uno di quelli su cui pensi ma che senso ha fare una serie su di lui si ha sempre avuto una certa importanza ma è limitata e invece a vedere questo trailer mi sembra un buon film action anche di spionaggio se vogliamo perché con lui comunque essendo una spia ci può stare magari vediamo anche qual è il suo diciamo un po' il suo modo di affrontare il lutto per quello che è successo a Natasha perché comunque abbiamo Florence Pugh come di Elena Belova in questa serie anche solo come cameo magari compare una puntata non si sa bene penso che si discuterà di quello che è accaduto anche perché lei è convinta che Occhio di Falco abbia ucciso volontariamente Natasha quindi sta andando da lui per prenderlo per cui una minaccia potenziale inizialmente potrebbe essere anche Jelena che vuole vendetta per la sorella anche se sappiamo che non è sorella di sangue per cui potrebbe essere interessante anche questo aspetto salvo poi probabilmente capire la situazione nel giro di poco però intanto questi personaggi iniziano un pochino a collaborare a interagire tra loro per cui credo che stiano preparando qualcosa di interessante e di serie in serie questa parentesi delle serie dell'MCU diventa sempre più snodata sempre più interessante e con tanti sbocchi per il futuro quindi sono curioso il trailer mi ha convinto non davo molto a questa serie non è che le dessi più di due o tre lire eppure adesso che ho visto il trailer sapendo che comunque non ci vorrà molto prima che possiamo vederla poco più di due mesi sono abbastanza interessato devo essere sincero le scenerazioni mi sembrano direte bene ho visto delle cose che mi davano molto di scene action alla fratelli russo tipo Captain America Winter Soldier quella con loro in macchina quella che sperimenta le frecce esplosive e capisce la sua vera potenza peraltro se la vedete all'inizio Cap Bishop non usa l'arco usa altro tipo di armi corpo a corpo per cui lui la deve istruire sull'utilizzo delle frecce perché lei diventa un'arciera ma non parte come arciera quindi da vedere se il suo destino sarà qualcosa che lei vuole accettare di buon grado oppure se avrà delle difficoltà perché magari non si sente rappresentata quindi chi lo sa mi sembra interessante contentissimo per Ellie Steinfeld che secondo me è una bravissima interprete e che finalmente viene conosciuta anche dal grandissimo pubblico ha già dimostrato di essere una grande attrice ha lavorato con grandi registi ma lo sapete che nello star system più lavori per prodotti particolarmente commerciali più puoi poi in un secondo momento andare a fare anche qualcosa di un pochino più profondo lei ha già fatto le cose profonde ma le manca il farsi conoscere per davvero dal grandissimo pubblico io la conosco già la adoro però secondo me le mancava ancora un prodotto di questo tipo quindi staremo a vedere fate sempre cosa ne pensate voi perché sono molto curioso io vi abbraccio noi ci vediamo al prossimo movie vlog ciao a tutti